Il vaso di Pandora Questo cosa significa? Gli occhi non ti ingannano Kratos, è lo stesso vaso che avresti anni o solo, custodisce tuttora il potere di uccidere un dio Liberai quel potere quando uccisi Ares? No, nel vaso si nasconde un potere in più delante, venuto celato al mondo, tutto inizio quando Zeus riempò sui titani nella grande guerra Zeus capì che il mare è scambito da quello scontro, si è lasciato libero, avrebbe agliettato il mondo urbano e vivono Per ingabbiare questi sentimenti, Zeus chiedeva il resto di forgiare un reciclietto di grandi contenibili Paura, abilità, odio Riechiuse tutto quanto nel vaso, sperando che potessero non inventare mai più il suo regno Quando apriste il vaso per uccidere Ares, attingesti ai poteri in più Dopo il tuo trionfo, la pauna per base Zeus Ma la fiamma è letale, come posso recuperare il vaso? Con la sua omonima, Kratos Pandora Lei è la chiave per distruggere la fiamma, la chiave per la nostra vendita Sarà difficile, Spartano È una bambina, non mi darà problemi, Athena Spero sia così, Fantasma di Sparta Quindi funzioniamo così, semplice Grazie a tutti. 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 Hai avuto fortuna in bastaglia, Spartano, ma oggi dille addio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho dalla mia rapidità dell'Olimpo mortale. Grazie a tutti. Quasi, Spartano. Quasi, Spartano, ma devi fare di meglio. Grazie a tutti. Tigro mortale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stande a tutti. Wow. Non sarò... Non sarò... Sono un'altra... Sono un'altra... non è un'altra... No, no... Defendermi è sleale. Ma tu hai il tuo codice d'onore, vero Gratos? E cosa ti ha portato quell'onore? Soltanto gli incubi dei tuoi misfatti. Oggi potrai anche sconfiggermi, ma alla fine, Gratos, alla fine tradirai solo te stesso. Oggi potrai anche sconfiggermi, ma alla fine tradirai solo te stesso. Oggi potrai anche sconfiggermi, ma alla fine tradirai solo te stesso. Oggi potrai anche sconfiggermi, ma alla fine tradirai solo te stesso. Grazie a tutti. 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 a tutti.